Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla vicenda ENI, oggi conferenza stampa del Partito Democratico. A pochi giorni dalla presentazione della Green Refinery per il PD, la questione deve tornare sui tavoli nazionali coinvolgendo anche Invitalia. Vediamo. La presentazione della nuova Green Refinery di Gela, venuta giorni dietro alla presenza dei massimi vertici del colosso industriale, monitorata dal Partito Democratico. Ci sono alcuni punti, sottolineano i rappresentanti locali del PD, che bisogna analizzare a fondo il segretario cittadino Peppe Di Cristina. Il PD su questo ha avuto sempre una posizione certa, almeno da febbraio, da quando sono stato eletto io. Cioè l'industria Gela deve rimanere, un'industria diversa, ecocombatibile, ma deve rimanere nel rispetto delle maestranze e dei lavoratori che hanno dimostrato una qualità professionale di altissimo livello, ma va portata avanti senza demagogia e populismo. Il tema che pone il PD è la questione che non può essere localistica, va investita in Invitalia, è una questione regionale e nazionale e per questo io, senza fare un comunicato cittadino ogni tre minuti, sono permanentemente in contatto con il segretario regionale del mio partito, che è l'onorevole Ragiti, proprio perché la questione va tenuta sempre a livello regionale e nazionale. Dunque fare bisogna sempre accendere su Gela. Certo, non solo devono essere sempre assolutamente accesi, ma la questione non può diventare localistica o provincialistica, perché lì noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato in queste settimane. Per il capogruppo consigliare del PD, Enzo Cirignotta, gli interventi annunciati dall'ENI devono essere messi subito in campo, garantendo occupazione immediata, soprattutto ai lavoratori dell'indotto. Da solo il protocollo d'intesa non è sufficiente a garantire la rioccupazione di tutti i lavoratori dell'indotto. Infatti ho sentito parlare di investimenti aggiuntivi, ma quando si parla di investimenti aggiuntivi di fatto si sta cercando di riaprire il protocollo d'intesa. Perché solo attraverso investimenti, nuovi investimenti, nuove attività imprenditoriali, nelle quali l'ENI secondo me deve essere il fulcro di questi nuovi investimenti, l'ENI deve cercare di portare nuove attività collaterali all'agrile refiner e comunque a tutte le nuove attività ambientali che si andranno a sviluppare da qui a qualche anno. Solo così prendiamo consapevolezza che si può garantire l'occupazione e comunque risollevare le sorti dell'indotto per dare una nuova speranza di sviluppo alla nostra città. Ecco, una nuova speranza di sviluppo. Ma tempi certi per coloro i quali lavoravano nell'indotto e ora purtroppo ne stanno piangendo le conseguenze? L'unica preoccupazione della politica deve essere questa, di cercare di accompagnare questi lavoratori all'apertura dei nuovi candieri. E' di questo che ci dobbiamo preoccupare, di garantire l'emergenza, la fase di transizione che per quanto mi riguarda, ma penso che ce ne siamo accorti tutti, sta durando fin troppo tempo. Intanto il dramma dei lavoratori dell'indotto è stato al centro ieri sera della trasmissione Agorà ideata e condotta da Franco Gallo. Vediamo. Il dramma di tanti padri di famiglia, di tante famiglie, di una intera città. L'avvertenza Gela che non decolla è la città che dalla posizione inginocchiata è passata nel frattempo a quella di un corpo inerme. Gela che langue è la politica che nicchia, che si nasconde dietro sterili scarica a barile. Roma, Palermo, Gela, con quest'ultima che piange le conseguenze del cortocircuito politico tra le prime due. In mezzo, la vicenda Eni che potrebbe svoltare in positivo, ma che stenta a decollare proprio per le beghe tutte interne al PD, partito che governa a Roma come a Palermo e che non riesce a trovare la sintesi per fare uscire dall'impasse la gravissima crisi in cui ha cacciato la nostra città. Di questo si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale di Canale 10 è tornato ad occuparsi dell'avvertenza Gela e dei suoi ultimi sviluppi. In studio con il conduttore, un parterre arricchito da tanti lavoratori, o sarebbe meglio definirli ex lavoratori dell'indotto, compreso quel Matteo Guerreri che nei giorni scorsi aveva inscenato la clamorosa protesta di arrampicarsi su un pontone del cantiere della Smim, azienda per la quale ha lavorato fino a qualche mese fa, per provare a squarciare il velo dell'indifferenza che stava coprendo una vergogna allo Stato puro, ossia otto mesi di mancato versamento persino della cassa integrazione. Drammi, disperazione, rabbia, i tanti sentimenti espressi dai lavoratori presenti in studio hanno fatto da cornici ad una trasmissione durante la quale il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano, ha provato a spiegare gli sforzi, a volte inutili, che l'amministrazione comunale sta facendo per rimettere in piedi un'avvertenza che l'inettitudine di Roma e di Palermo ha gettato nel dimenticatoio. Le pastoie burocratiche, ma soprattutto le faide interne al PD, con Renzi che mal sopporta crocetta e viceversa, hanno finito per fiaccare i tentativi di far uscire Gela dalla grave crisi che la sta attanagliando. Assieme al numero 2 della giunta guidata dal sindaco Domenico Messinese, in studio anche il capogruppo consigliare del PD, Vincenzo Cirignotta, e di consiglieri comunali Salvatore Scerra di Forza Italia e Luigi Di Dio di Reset 4.0. Nel parterre degli ospiti anche il lavoratore dell'indotto, Francesco Cacici, che da sempre guida la battaglia dei suoi colleghi in tutte le sedi istituzionali. E poi, dietro le telecamere, loro, i veri protagonisti della puntata di Agora andata in onda ieri sera, i lavoratori, diventati nel frattempo disoccupati, dell'indotto del Leni. Perché a loro era dedicata ieri sera la trasmissione di punta di Canale 10? Gente disperata ma anche dignitosa, civile e rispettosa delle regole, ma che una politica becera vorrebbe relegare ai margini della società civile, spingendo qualcuno, come Matteo Guerreri, a decidere di mettere a repentaglio la propria stessa vita e la serenità dei propri familiari. A questa gente, oggi più che mai, la politica deve guardare, a dare loro delle risposte concrete e non le solite parole infarcite di aria fritta, di inutili promesse. Da Roma e fino a Palermo, senza trascurare gela, chi ha il potere di agire agisca e non perda ulteriore tempo e, soprattutto, superi le discordie interne e le scaramucce sterile di bottega per dare un aiuto concreto a questo territorio martoriato. Martoriato, in primis, proprio dalla politica e dai politici che l'hanno governata. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10 a partire dalle ore 21 oppure sui nostri indirizzi social già dalle prossime ore. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano Gela e Digelesi. Cambiamo argomento, deve scontare due anni di detenzione per spaccio di droga. Destinatario del provvedimento eseguito dalla Polizia Digela e il palermitano Giovanni Traina, 51 anni. Domiciliari, invece, per il 25enne Nunzio Massimo Tilaro l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti speciali. Deve scontare una pena di sei mesi. Sempre la Polizia ha denunciato un 42enne per lesioni personali, ingiurie e minacce, un 60enne per molestie e disturbo alle persone ed un 56enne accusato per l'ennesima volta di non avere comunicato alle autorità lo svolgimento di un comizio pubblico. C'è uno spiraio sulla vicenda tavica che interessa il porto rifugio di Gela. Ad annunciarlo è il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Peppe Arancio. Più volte nelle ultime settimane gli operatori portuali e pescatori hanno chiesto interventi immediati al presidente della regione, Rosario Crocetta, chiedendo un porto rifugio agibile e fruibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede, così come accade in altri siti siciliani bagnati dal mare. Perché un porto agibile richiama numerosi fruttori e offre la possibilità agli operatori di lavorarci ogni giorno. E ogni giorno i pescatori possono utilizzarlo, così come i turisti. Ed invece il porto ha lo stato attuale e all'abbandono. Ieri ho avuto un'interlocuzione con Crocetta anche perché c'era questa necessità che venissero, diciamo, che iniziassero i lavori del dragaggio del porto di Gela. Praticamente ho avuto questa interlocuzione e ho avuto notizia che praticamente Crocetta ha avuto rapporti con Eni che sono disponibili a mettere i quasi 5 milioni di euro che servono per i lavori, così come stabiliti al tavolo della protezione civile con l'ingegnere Foti. Quindi occorre, questo è un invito, poi chiamano il sindaco, glielo comunicherò, che è l'amministrazione formalmente i dichiari che vuole fare e mettere a disposizione i soldi per il dragaggio e per le opere di completamento del porto. Quindi questa è una notizia che diamo alla città perché iniziano i lavori e finalmente i pescatori, i diportisti, tutti coloro che lavorano fornendo servizi all'interno del porto potranno riprendere e mettere in moto questa microeconomia. Il Comune di Gela ha siglato una convenzione con l'Università degli Studi di Torino per consentire dei tirocini informativi e di orientamento nella pubblica amministrazione gelese. Finora l'ente amministrato dal sindaco domenico messinese ha sottoscritto le stesse intese con le Università di Palermo, Napoli, Messina, Catania e Enna. Entro il prossimo 31 gennaio al Comune di Gela è possibile presentare la domanda per richiedere l'assegno a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori. Fabiola Polara oggi ne ha parlato con l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. Il Comune di Gela dà un'opportunità alle famiglie numerose. Che tipo di bando avete messo a disposizione, se ci sono termini e quali le condizioni? Le condizioni sono quelle appunto delle famiglie che abbiano un nucleo familiare composto da almeno tre figli. Hanno la possibilità di poter presentare un'istanza scaricabile direttamente al sito internet il Comune di Gela o altresì disponibile presso gli uffici del segretariato sociale dove chi appunto ripeto avesse un nucleo familiare composto da almeno tre figli ha la possibilità di fare un'istanza che viene poi girata dal Comune di Gela agli uffici preposti dove appunto c'è la possibilità di avere un contributo un contributo rivolto proprio alle famiglie numerose che terrà conto non solo delle condizioni appunto del nucleo familiare inteso come numero di componenti ma altresì delle condizioni economiche ovviamente che appunto in esso sussistono. Per ricevere dunque questo contributo ci si muove all'interno di una forbice tenendo conto due varianti, il numero dei componenti del nucleo familiare e il reddito. Certo, ovviamente questi sono i criteri diciamo di massima che vengono utilizzati proprio al fine di favorire maggiormente le famiglie che hanno un nucleo familiare più numeroso e ovviamente sono in condizioni economiche più disagiate. E gli adempimenti entro quando e dove? Entro il 31 gennaio 2017 basta presentare l'istanza presso gli uffici di protocollo appunto scaricando dal sito internet o attraverso appunto il modulo presente al segretariato sociale del Comune di Gela la listanza può essere presentata presso gli uffici comunali. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indivenente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Il giornale dedica l'apertura della prima pagina all'incontro che l'Eni ha avuto in settimana con la stampa, il servizio tra dubbi e certezze è di Nello Lombardo. In prima pagina anche il richiamo di un ampio servizio sulla situazione del porto di Fugio. Il giornale dà voce al titolare di una azienda navale e ad un rappresentante del comitato porto del Golfo di Gela. C'è poi la rubrica politicamente scorretto di Giulio Cordaro. Questa settimana il caustico commentatore del Corriere di Gela prende in giro i partiti politici che anche quando perdono dicono sempre di uscirne vincitori. Il giornale prende spunto dal recente insedimento di Bianco al sindaco della città metropolitana di Catania per riproporre la questione della legge di riforma delle ex province. All'interno gli articoli e servizi di attualità e cultura c'è infine lo sport con i servizi sul calcio di Orazio Accomando e altri articoli sul nuoto, calcio femminile e tiro con l'arco. In ultima pagina i piccoli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo lì nella leggea per la pubblicità. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale. Domani nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Gela nell'ambito del percorso sulle 14 opere di misericordia organizzato dal Vicariato di Gela e dal Movimento della Misericordia si svolgerà la nona catechesi dettata da Oreste Pesale direttore esecutivo dell'International Catholic Charismatic unico organo vaticano in cui sono legati tutti i movimenti, associazioni e comunità carismatiche del mondo. L'importante appuntamento inizierà alle 18.30 con la celebrazione eucaristica seguirà la catechesi e la preghiera di intercessione. Inoltre la Piccola Casa della Misericordia sta diffondendo attraverso un servizio di volontiraggio e manifesti pubblici l'inno alla vita scritto da Madre Teresa di Calcutta per far riflettere la popolazione su un importante e unico dono dell'esistenza umana. E adesso parliamo di teatro, è tutto pronto al Comunale Eschilo per la rappresentazione della famosa tragedia di Eschilo, Sette Controtebbe. Vediamo. La famosa tragedia di Eschilo, Sette Controtebbe, rivisitata in Chiave Moderna sarà in scena domani alle 19 al Teatro Eschilo di Gela saranno i corsisti della scuola di formazione dello stesso teatro a rappresentarla diretti dalla regista Francesco Longo che ha curato con genialità, particolarità e impegno questo saggio finale. È un'opera abbastanza impegnativa, scritta più di 2500 anni fa da Eschilo il nostro concittadino Eschilo speriamo che i nostri alunni siano così bravi da poter dimostrare che quest'anno hanno studiato, hanno seguito bene le lezioni e soprattutto i loro insegnanti come Tucciu Musumeci, Emanuele Amuni, Romano Bernardi e Guiaiello sono stati all'altezza della situazione. La scuola sperimentale avviata ad ottobre ha visto la partecipazione di 14 corsisti che hanno potuto assistere alle lezioni di teoria e pratica valendosi dalla bravura di illustri nomi come Tucciu Musumeci, Romano Bernardi, Guiaiello, Emanuele Amuni e ancora del produttore teatrale Orazio Turrisi e dell'attrice Maria Carla Aldisio che ha curato la dizione. Personalmente io interpreterò la parte del re Eteocle uno dei due fratelli figlio di Edipo che si è impossessato della città diciamo che doveva dividere un anno ciascuno doveva governare un anno ciascuno col fratello ma che poi non ha ricambiato diciamo così il favore e Polinice che il fratello quando si è visto spodestato in un certo senso ha pensato con delle alleanze particolari di attaccare con altri eserciti le sette porte di Tebbe la storia un po' si svolge in questa direzione la tragedia sta proprio in questo conflitto fra fratelli che si trovano nemici. L'attaccante del gioco a calcio Maurizio Nassi ha vinto il pallone d'oro siciliano ieri cerimonia di consegna a Paternò premiati anche la società Biancazzurra e l'allenatore Brucculeri lo stesso centravanti gelese è preoccupato per la mancata omologazione dello stadio Presti. Meritato, anzi strameritato l'attaccante del gioco a calcio Maurizio Nassi ieri sera a Paternò nel corso degli Awards o Football Stars 2016 ha ricevuto il pallone d'oro siciliano. Il giocatore biancazzurro quest'anno è stato uno degli artefici della promozione del Gela in serie D segnando 19 reti senza l'usilio di rigori in carriera tra serie A, B, C, 1 e D ha messo a segno oltre 100 gol. Un premio che ti aspettavi? No, che mi aspettavo, che mi aspettavo no che speravo è comunque un merito riconosciuto che mi fa molto piacere mi inorgoglisce di tutto il lavoro che ho fatto e sono felice perché, ripeto, è una cosa che faccio nella mia terra a livello regionale e da buon siciliano questo fa molto piacere. Tanti gol realizzati tra serie A, B, C, 1, Serie D eccellenza, ultimamente 19 reti senza l'usilio di un rigore poi il coronamento, il premio ricevuto ieri c'è una dedica particolare? Sì, questo lo voglio oltre a dedicarlo a me stesso per tutto l'impegno in quello che ho fatto quest'anno poi ovviamente alla famiglia che mi supporta e mi sopporta per tutti i sacrifici che faccio e che faccio fare a loro e poi a tutta la gente che mi vuole bene che mi ha votato al Gela Calcio ai miei compagni di squadra perché anche a loro devo tanto per il lavoro che hanno fatto e alla città di Gela che mi sostiene in ogni momento. Oltre a Nassi sono stati premiati la società del Gela e l'allenatore Toto Bruculeri assieme a Raffaele del Gia Virtus è stato riconosciuto il miglior tecnico di eccellenza i premi sono stati ritirati dalla detto stampa del club presieduto da Angelo Tuccio Flavio Centamore In merito alla vicenda legata al campo sportivo che non ha avuto l'omologazione siete realmente estremamente preoccupati? Beh io personalmente sì perché in questo anno abbiamo fatto tanti sacrifici noi come squadra e la società come società Gela Calcio quindi sapere l'11 di giugno che praticamente non possiamo giocare nel nostro terreno di gioco al Vincenzo Presti è una cosa molto grave io faccio appello al comune è un sollecito il mio a cercare di intervenire immediatamente perché sarebbe una cosa negativa per noi ma soprattutto per la città che finalmente passo dopo passo e sacrificio dopo sacrificio va ad affrontare un campionato semiprofessionista abbastanza importante Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela tutti gli spettacoli si terranno all'aperto si comincia venerdì 24 giugno alle 21.30 con Attenti a quei due della compagnia Antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso è di 5 euro a coppia nel calendario è prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti